Quarta edizione Lecco per gli Stati Generali del Welfare, un momento di confronto fra istituzioni e le realtà che operano nel terzo settore per fare il punto sui servizi destinati alle fasce più deboli della popolazione, una sfida per il futuro del nostro territorio. Le forze che oggi sono qui in campo sono tutte le istituzioni, il terzo settore, le università e le persone di tutte le estrazioni portano il loro contributo e le loro competenze per affrontare i temi attuali che ci sono sul tappeto, per affrontarli con nuove energie, nuove sinergie, soprattutto confrontandosi con le loro competenze, dando delle risposte che siano condivise, non pensando di risolvere completamente ma di affrontarle con un'ottica diversa. I Stati Generali del Welfare da sempre costituiscono un momento importante di confronto territoriale che mette insieme una forma, potremmo dire, di intelligenza collettiva al lavoro sui temi cruciali che occupano le fasce della vulnerabilità e della fragilità sociale. Questo appuntamento in particolare preluda ad un lavoro che continuerà anche nei prossimi mesi per sfociare a marzo con un ultimo appuntamento che volutamente vuole non solo riflettere intorno ai temi del welfare ma indicare delle piste di lavoro concrete che devono poi essere incastonate dentro il prossimo piano di zona territoriale. Quindi si lavora, si riflette, si fanno dei laboratori, dei workshop tematici sull'integrazione sociosanitaria, sul coinvolgimento dei cittadini, sui temi che sappiamo essere molto attenzionati come le risorse della comunità, come il volontariato affinché questi temi poi confluiscano in un ragionamento, in un vero e proprio inserimento nella prossima programmazione di zona. Quindi pensiero e azione, pensiero e operatività. Possiamo dire che noi vogliamo sempre portare momenti di elaborazione che poi trovino un loro compimento in un vero e proprio programma territoriale, in questo caso in vista del prossimo piano di zona del 2020.